Una giornata ricca quella di oggi, 10 ottobre, per la Fiera delle Parole, manifestazione che fino a domenica riunirà a Padova scrittori, giornalisti, filosofi, attori, musicisti e cantautori. Alle 17 al Teatro MPX il pubblico ha potuto vivere la musica e poesia di Gian Maria Testa con Altan e Sergio Staino. Poi il nuovo libro di Aldo Cazzullo che ha portato in anteprima alla Fiera delle Parole il suo Basta piangere, storie di un'Italia che non si lamentava, edito da Mondadori. Alle 19 al Centro Sanga e Tano anche Vladimir Luxuria con l'Italia migliore. Infine questa sera alle 21 da non perdere il dialogo fra Gian Antonio Stella e Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera e il giornalista del Corriere della Sera parleranno di corruzione, un tema che resta al centro di un dibattito che sembra non riuscire mai a produrre soluzioni definitive. Da mani pulite a oggi, che cosa non ha funzionato nella lotta contro un fenomeno che tutti a parole vogliono combattere?